Ed ora ci spostiamo in eccellenza per il nostro live quotidiano. Mario, chi è l'ospite di oggi? Belen Sosa, direttore sportivo del San Severo, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a te. Allora, raccontiamo questa storia davvero molto bella, perché Belen Sosa è appassionata di calcio, ce lo confermerai tu praticamente da sempre. Ora è nata questa opportunità di svolgere, di ricoprire l'incarico di DS del San Severo, in realtà che anche nella prossima stagione, come sapete, parteciperà al prossimo campionato di eccellenza. Ci vuoi svelare qualche retroscena? Com'è nata questa idea? Come si è sviluppata poi questa opportunità, Belen? Allora, diciamo, è nata perché comunque negli ultimi anni ho portato tanti giocatori dalla Spagna, particolarmente dalle Canarie, come Kylian Randes-Perez, l'anno scorso in D a Bastogirardi, quest'anno ho già firmato a Termoli, Sebas Bentos, che due anni fa era qui in eccellenza Pugliese, l'anno scorso stava a Bastogirardi anche lui, Guadir Costa anche lui l'anno scorso in D e Diego Garcia anche lui l'anno scorso in Serie D. Tutti i giocatori comunque che hanno passato dall'eccellenza Pugliese, e poi mano a mano, diciamo, col tempo sono cresciuti, sono andati anche in Serie D. Penso che questo sia stato anche il motivo per il quale sono stata chiamata, perché qualcosa, diciamo, di buono stavo facendo. Parlaci un po' di questo nuovo progetto del San Severo, che naturalmente ti coinvolge in prima persona. Che stagione sta nascendo? Allora, ovviamente quest'anno ci apprestiamo, diciamo, un campionato un po' difficile, perché ovviamente il ritorno al girone è unico, ci saranno tante retrocessioni, quindi sarà un campionato difficile per tutti. Sicuramente il San Severo vuole fare un buon campionato, cercare ovviamente la salvezza il prima possibile, portando giocatori giovani, ma comunque di qualità, che possano dare uno slancio al campionato. Bene, leggevo una tua dichiarazione. Basta tabù o luoghi comuni, vedere una donna di esse non deve creare alcuna perplessità. A proposito di questo virgolettato, senti di avere una responsabilità importante da questo punto di vista, perché sei di fatto la prima di essere donna d'Italia. Sinceramente non sapevo nemmeno di essere stata, all'inizio non avevo notato questa cosa, poi me l'hanno fatta notare tanti amici. Sì, insomma, la responsabilità c'è, ma penso che come quella che può sentire anche l'uomo, penso che non deve assistere questa differenza. Cioè, sono stata scelta per le mie qualità, per quello che ho dimostrato negli anni e penso che questo debba bastare per tutti, donna, uomo che sia. E noi siamo completamente d'accordo con te. Sicuramente svolgerai un ottimo lavoro a Sansevero, in realtà lo stai già svolgendo, perché siamo ancora nei giorni conclusivi di giugno, ma già sono arrivate diverse ufficialità per quanto riguarda la prossima stagione. Facciamo un po' il punto della situazione, perché avete annunciato gli arrivi di Emilio Vega, che è un terzino tuo conazionale, uno spagnolo, il portiere Lorenzo De Carlo, e poi Francesco Barrasso, che è un centrocampista ancora molto giovane, ma già ha diverse esperienze nel campionato di eccellenza, ha giocato con Barletta, Molfetta, ha militato anche nel Cerignola, insomma, in piazze importanti. Poi sono arrivate le conferme di Simone Ruffini e Ghetano Bosco. Ora, su quali profili stai lavorando? Noi sicuramente tutti i ragazzi, cioè tutti gli under che l'anno scorso formavano parte del Sansevero, sono stati confermati tutti, perché avevano anche svolto un bel lavoro l'anno scorso. Adesso stiamo lavorando su altri profili, sempre dell'eccellenza buiese, e qualcun altro ovviamente arriverà dalla Spagna. Tanto noi fra un po' cominceremo con Calcio Market, avremo modo ovviamente di risentirci, di fare poi il punto sul mercato del Sansevero. Parliamo un po' di ambizioni. Avete un nuovo allenatore, l'avete officializzato, Roberto Maffucci, che prende il posto di Danilo Ruffini al timone della squadra. L'eccellenza sarà, come al solito, molto complicata. Il Sansevero deve badare innanzitutto la conferma della categoria o può immaginare sin da ora una stagione d'alto profilo, secondo te? Sicuramente sia mister Maffucci, io e tutto lo staff, siamo persone molto competitive, sicuramente questo è vero. Ma adesso pensiamo alla salvezza a piedi per terra, poi vedremo mano a mano che faremo le partite, se andrò avanti nel campionato si potrà parlare d'altro. Al momento la salvezza, penso che deve essere questo il nostro obiettivo principale. E chissà, mai dire mai perché poi le ambizioni e gli obiettivi possono cambiare a stagione in corso. L'ultima, che messaggio ti senti di mandare agli appassionati di Sansevero, che comunque è una piazza importante, una piazza che ha militato anche nel campionato a livello italiano, a livello dilettantistico nel campionato di Serie D? Innanzitutto ringraziarli per l'accoglienza, che sto ricevendo tanti messaggi da parte di tutto il popolo sanseverese, insomma di tutta la città e sono felice per questo. Di venire allo stadio, di sostenere la squadra ed essere per noi di aiuto. Questo posso chiedere a tutti quelli che ti fanno Sansevero, di stare accanto a noi e aiutarci a portare questa squadra il più in alto possibile. Grazie a Belen Sosa, Neo DS del Sansevero, ti facciamo ovviamente un grandissimo in bocca al lupo e ti auguriamo buon lavoro per questa nuova avventura. Grazie per essere stata con noi. Grazie mille, grazie mille a voi. Arrivederci. A presto.